E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Cacao, mandorle, farina gialla di mais marano, grappa, burro, latte e miele della provincia di Vicenza. Se il nostro dolce tipico lagata, con gli ingredienti della ricetta creata dai pasticceri e artigiani, vi ha già conquistato, provatelo nella versione gelato. Una bontà che dal 24 vi regalerà anche dei simpatici magneti da collezione. Un originale magnete con l'immagine di lagata. Sì, uno di quegli oggettini a tacca e stacca che servono anche per fissare un appunto, un promemoria. Il primo dei quali potrebbe essere quello di tornare in gelateria per completare la collezione. E questo è il simpatico gadget, disponibile in tre versioni, che quest'anno viene consegnato in omaggio, fino ad esaurimento scorte, a quanti acquistano un cono o una coppetta con due palline, di cui almeno una al gusto di gelato lagata. Già da tempo, anche fuori provincia, molti conoscono e apprezzano il dolce omonimo. Torta creata otto anni fa da un gruppo di pasticceri vicentini, è subito divenuta protagonista di un notevole successo, tanto da essere citata anche su Wikipedia, alla voce dolci della pagina dedicata alla cucina vicentina. Dalla scorsa estate, questa specialità si può assaporare anche nella versione fredda, frutto della ricerca di un gruppo di gelatieri e pasticceri vicentini, che ne ha elaborato la ricetta in modo da trasferire tutte le dolci caratteristiche della gatta al nuovo gusto di gelato, proposto nelle gelaterie vicentine aderenti al progetto. L'iniziativa, quest'anno, riparte il 24 marzo, in occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, istituita nel 2012 dal Parlamento Europeo, per la valorizzazione e la promozione di tale alimento. Non c'era quindi ricorrenza migliore per proporre al pubblico di grandi e piccini il nuovo gusto, nato ancora una volta dalla creatività e dalla professionalità dei gelatieri artigiani. Il dolce lagatta deve il suo consolidato successo ai suoi ingredienti semplici e genuini, trasformati in morbida bontà dalla maestria, dalla sensibilità, che solo la mano di un pasticcere artigiano può avere. Vi si impegnano farina bianca e farina gialla di mais marano, grappa, burro, latte e miele della provincia di Vicenza, più un pizzico di mandorle e cacao per rendere il tutto ancora più goloso. Per conoscere le pasticcerie e le gelaterie aderenti al progetto,